Ciao a tutti amici di Focus Tech e benvenuti alla nostra recensione della Fujifilm Instax Mini 40 la nuova instant camera di Fujifilm in vendita ad un prezzo che si aggira attorno ai 99€ può essere considerata come la sorella minore della Fujifilm Instax Mini 90 in quanto ha un prezzo effettivamente inferiore nonostante tutto è la classica instant camera di Fujifilm con dimensioni non particolarmente elevate con possibilità di posizionare nella parte posteriore le pellicole proprietarie e originali e soprattutto con la presenza del flash direttamente tirato anteriormente il quale purtroppo su questo modello non può essere disattivato e quindi sarà sempre attivo mentre il funzionamento del prodotto è garantito direttamente da due pile stilo posizionabili nella parte superiore adesso comunque lo vediamo da vicino e poi scopriamo anche come scatta dopo la nostra sigla esteticamente il prodotto appare essere molto elegante infatti i dettagli in argento e il design in stile retro lo rendono molto diverso dalla serie square la quale può sembrare un po' più un giocattolino la texture nero ruvida con il rivestimento in similpelle gli conferisce una buona ergonomia in quanto anche con mani bagnate o leggermente sudate difficilmente vi scivolerà di mano per il resto le dimensioni non sono particolarmente elevate in quanto raggiunge 104 x 121 x 65 mm con un peso che si aggira attorno ai 330 grammi senza batteria o pellicola interrate sulla superficie è posizionato solamente un pulsante fisico lo troviamo nella parte anteriore il quale è il pulsante di scatto il suo posizionamento è corretto soprattutto e quasi esclusivamente se siete destri infatti se siete mancini potreste fare un po' di fatica perché altrimenti andreste a dostruire il flash e il mirino posizionato esattamente a fianco per il resto però garantisce una buona esperienza complessiva inoltre come vi ho appena detto a fianco troviamo il mirino il quale purtroppo è posizionato sfasato rispetto all'obiettivo e in questo caso potremmo avere delle difficoltà soprattutto nei primi utilizzi infatti dovete prestare attenzione ad inquadrare bene la scena e pensare che lo scatto finale sarà spostato di un 10 cm verso destra rispetto a quello che state effettivamente vedendo attraverso il mirino però questa è una specifica che troviamo praticamente su tutte le instant camera inoltre sempre parlando del mirino ricordiamo di essere un po' più piccola la finestrella da cui vedere la scena rispetto ad esempio alle mirrorless se siete abituati a questa tipologia di prodotti effettivamente vi accorgerete e farete un po' fatica all'inizio ma come nel caso precedente con un po' di allenamento e di abitudine poi vi piacerà al 110% nella parte anteriore troviamo il flash il quale purtroppo non può essere disattivato e quindi verrà utilizzato per tutti gli scatti che otterrete con questo prodotto non abbiamo pulsanti di accensione veri e propri a fianco dell'obiettivo è posizionato un pulsante con rivestimento argentato il quale deve essere premuto per fare per modo di dire uscire l'ottica e attivare la macchina quest'ultima presenta lunghezza focale 60 mm con una messa a fuoco da 30 cm nel caso in cui vogliate utilizzare la cosiddetta modalità selfie dovrete estrarre facendo un po' di forza quindi prestate attenzione a non fare troppa forza perché si potrebbe rompere sempre sull'ottica e in questo modo voi potrete utilizzare anche il piccolo specchietto esattamente al di sopra della stessa il quale è posizionato alla perfezione ed è molto comodo per capire l'inquadratura ottenendo in questo modo una modalità selfie con messa a fuoco tra 0,3 e 0,5 cm per il resto come vi ho detto verrà sempre utilizzato il flash il quale ha una portata da 0,3 a 2,7 metri quindi se andrete a scattare un istantanea con un soggetto a più di 3 metri di distanza sappiate che non riuscirete ad illuminarlo in maniera adeguata all'interno è stato posizionato un otturatore elettronico composa da 0,50 secondi fino a un 250 millesimo di secondo con il controllo di esposizione completamente automatico nella parte posteriore troviamo l'alloggiamento della pellicola il sistema prevede un rilevamento della pellicola quindi in grado di riconoscere se è stata posizionata oppure no il posizionamento è molto molto semplice e nella parte superiore abbiamo anche lo sportellino che ci permette di capire quante pellicole sono rimaste all'interno del dispositivo proprio perché una volta posizionata la pellicola è sconsigliato aprirla in quanto comunque si rischierebbe di rovinarle ancora prima di utilizzarle come tutte le altre instant camera di Fujifilm anche in questo caso i tempi di stampa sono in linea con le aspettative parliamoli in circa di 90 secondi dal momento in cui premete il pulsante al momento in cui la fotografia sarà sviluppata al 100% le pellicole da utilizzare avranno dimensioni di 86 x 54 mm mentre l'immagine in sé è un po' più piccola e raggiunge 62 x 46 mm il funzionamento del tutto non è gestito da una batteria infatti nella parte superiore abbiamo l'alloggiamento delle pile sono incluse in confezione due pile stilo quindi doppia A le quali garantiscono circa 100 scatti quindi 10 confezioni di pellicole prima di doverle cambiare naturalmente sono stime perché non abbiamo avuto l'opportunità di fare 100 scatti però la possiamo ritenere un'autonomia più che sufficiente in linea con quelle che erano le nostre aspettative adesso facciamo qualche piccola considerazione sugli scatti che abbiamo ottenuto con i nostri test come solito partiamo da condizioni di forte luminosità in questo caso si può vedere una scena fortemente illuminata la quale presenta colori non troppo saturi decisi o importanti quindi abbiamo un bilanciamento del bianco non perfettissimo e una tendenza a rendere i neri decisamente più profondi manca leggermente anche il dettaglio e la nitidezza passiamo a un soggetto illuminato dal sole in una giornata estiva in questo caso si può vedere come i colori siano un po' più importanti non raggiungono la saturazione di una reflex o di una mirrorless però anche il dettaglio e la nitidezza li possiamo ritenere più che soddisfacenti vi faccio però vedere un piccolo problema infatti se noi effettuiamo ad esempio uno scatto in modalità selfie sempre dello stesso soggetto in questo caso si rischia di rovinare la pellicola infatti come potete vedere abbiamo lo stesso soggetto che era la nostra salvia la quale è fortemente illuminata con il sole e il sistema non è stato in grado di mettere bene a fuoco il soggetto di regolare il bilanciamento del bianco e quindi mi ha generato uno scatto completamente sovraesposto e mi ha bruciato esattamente la pellicola vi faccio vedere il confronto in questo caso noi abbiamo effettuato lo scatto un po' più lontani sulla destra senza modalità selfie mentre sulla sinistra ci siamo avvicinati quindi siamo stati entro i 50 cm per la messa a fuoco e vedete che si è completamente bruciato quindi dovete prestare attenzione se utilizzate la modalità selfie al soggetto che volete inquadrare perché il rischio se il soggetto è particolarmente bianco e illuminato è che si ottenga un risultato di questo tipo spostandoci poi al chiuso notiamo maggiormente l'influenza del flash infatti vedete che in questo scatto abbiamo l'illuminazione dettata dal flash soprattutto nella parte inferiore e soprattutto abbiamo anche un dettaglio e una nitidezza non perfetti infatti non abbiamo una bellissima messa a fuoco perché è stato messo a fuoco l'orologio sulla destra ma tutti i tune nella parte anteriore risultano essere o in alcuni casi sovraesposti quindi completamente bruciati oppure appaiono leggermente sfocati e poco nitidi quindi anche in questo caso i colori non sono particolarmente importanti né troppo saturi bisogna solamente prestare un po' di attenzione ai soggetti che si vogliono inquadrare ma per il resto siamo in linea con quella che era la fascia di prezzo e con i prodotti di questo tipo mi si può anche vedere dallo scatto effettuato sul cesto di frutta vedete che non abbiamo un dettaglio elevatissimo né troppa nitidezza ma i colori in questo caso sono un po' più importanti rispetto allo scatto precedente e qui si può anche notare il rischio di cui vi parlavo prima ovvero del disallinamento di mirino e di obiettivo qui abbiamo l'occasione perfetta infatti nella mia testa quando ho effettuato lo scatto avevo il cesto di frutta al centro ma nel momento in cui ho stampato quelle immagini lo vedete che è stato spostato sulla destra proprio perché l'obiettivo non è in linea con quello che è il nostro mirino prestate davvero molta attenzione sotto questo punto di vista concludiamo i nostri test con i selfie in varie condizioni di luce il primo riguarda una condizione di fuoco e luminosità con il sole in viso e un po' più buio alle spalle vedete che qui la resa è più che soddisfacente è andato davvero a mettere a fuoco bene il soggetto anteriore non abbiamo mai colori particolarmente saturi o precisi ma per il resto dettaglio nitidezza in questo caso mi sono piaciuti e sono in linea con quanto mi aspettavo stessa situazione però mi sono spostato un po' più avanti quindi qui si vede l'influenza del flash il quale mi ha messo perfettamente la luce e il viso ed è andato giustamente a bruciare la parte posteriore infatti in questo caso non avevo più il sole in viso mi ero spostato all'ombra però la forte luminosità posteriore è stata correttamente sovraesposta come ci saremmo dovuti aspettare da qualsiasi dispositivo fotografico a questo punto mi sono girato esattamente dall'altra parte e vedete che il sistema è andato un po' a sovraspormi il viso infatti data la presenza del flash e data la presenza di una condizione che particolarmente mi andava ad illuminare il viso il sistema non è stato in grado di regolare la perfezione con l'esposizione e il bilanciamento del bianco producendo un'immagine un po' troppo sovraesposta discorso diverso per l'ultimo scatto infatti in questo caso ho effettuato un selfie al chiuso con luce ambientale e parliamo di una luce ambientale di pomeriggio e vedete che il sistema mi ha illuminato alla perfezione il viso abbiamo buoni colori, un buon dettaglio, una buona nitidezza con la tendenza, data la presenza del flash di rendere molto sottoesposto a tutta la scena posteriore nonostante tutto però il dettaglio e la nitidezza in questo caso mi sono sembrati più che soddisfacenti come avete potuto vedere quindi la resa fotografica di questa Instax Mini 40 è perfettamente in linea con quelle che potevano essere le aspettative nel momento in cui ci siamo avvicinati a un prodotto da circa 99€ e sulla base delle esperienze per esse con le altre instant camere dell'azienda in conclusione questa Fujifilm Instax Mini 40 personalmente l'ho apprezzata in quanto comunque è un prodotto perfettamente in linea con la fascia di prezzo di posizionamento e in linea con quelle che potevano essere le mie aspettative nel momento in cui mi sono avvicinato a questa tipologia di prodotto chiaramente essendo una instant camera dovete prestare attenzione che gli scatti non potranno mai in nessun modo essere paragonati anche con una mirrorless entry level proprio perché chiaramente parliamo di due prodotti completamente differenti è importante sempre ricordarlo e sottolinearlo però come al solito parliamo di aspetti positivi e di aspetti negativi tra gli aspetti positivi hanno prima di tutto le dimensioni e l'ergonomia in quanto a prima vista può sembrare un po' grande rispetto ad esempio anche ad una compatta ma nel complesso non è così pesante e mi è piaciuto proprio anche il design in stile retro caratteristico della maggior parte dei prodotti Fujifilm e i materiali utilizzati è quasi interamente realizzato in plastica ma queste finiture argentate e la presenza di questo rivestimento in similpelle gli conferiscono un'eleganza di livello superiore ad esempio alla serie Square che abbiamo visto qui sul canale tempo fa oltretutto questo rivestimento in similpelle è utilissimo nell'utilizzo anche con mani sudate o bagnate perché mi permette di creare maggior attrito nel momento in cui ho in mano la macchina e quindi evita che possa essere scivolosa o quant'altro il secondo aspetto più importante e positivo riguarda chiaramente la qualità degli scatti fotografici perché entro certi limiti è una macchina che complessivamente riesce a cavarsela in ogni condizione di luce sebbene sia importante prestare attenzione ai soggetti fortemente illuminati come avete visto nel corso della recensione perché il rischio è di andare a bruciare lo scatto e rovinare una pellicola la quale come vediamo tra breve non costa poi così poco per il resto è una macchina perfettamente in linea con quelle che erano le nostre aspettative l'ultimo aspetto è la batteria perché abbiamo sì una presenza di due pile stilo nella parte superiore e avrei sicuramente preferito la presenza di una batteria ricaricabile però secondo gli standard di Fujifilm dovrebbero garantire un'autonomia di circa 100 scatti quindi 10 confezioni di pellicole e possiamo ritenerla più che in linea con quelle che erano sempre le aspettative per un prodotto di questo tipo chiaramente da utilizzare in mobilità dall'altro lato della medaglia abbiamo pochi aspetti negativi ma ci sono il primo riguarda l'impossibilità di disattivare il flash non abbiamo proprio nessun pulsante nessuna impostazione tale da permettere all'utente di non utilizzarlo in determinate condizioni di luce anche con fortissima luminosità lui si attiverà sempre e in questo caso chiaramente mi va a consumare più batteria ma nel complesso potrebbe rovinare lo scatto in determinate occasioni il secondo aspetto riguarda il mirino in quanto come vedete e come avete sentito nel corso della recensione non è in asse rispetto all'ottica ciò sa significare che soprattutto all'inizio se siete un po' inesperti nel momento in cui voi guardate dal mirino vedrete una scena ma non sarà esattamente la stessa scena che poi scatterà l'ottica stessa infatti è un po' più spostata e quindi dovete prestare attenzione al momento in cui inquadrate la scena pensando che poi lo scatto sarà effettuato un po' più a destra chiaramente non è un aspetto così negativo però è importante proprio perché si rischia di bruciare di rovinare una pellicola e come adesso vediamo hanno un prezzo particolarmente elevato stesso discorso sempre parlando del mirino per le dimensioni del mirino in sé lo vedete e lo avete sentito nel corso della recensione è davvero molto molto piccolo se siete abituati ai mirini di mirrorless, reflex o quant'altro vi dovrete abituare perché ha dimensioni ridottissime e potreste fare un po' di fatica all'inizio l'ultimo aspetto è proprio il prezzo in quanto è una negatività importante soprattutto per il prezzo delle pellicole perché la macchina in sé non costa poi così tanto parliamo di 99 euro ma le pellicole se le acquistate ad esempio su Amazon a prezzo pieno costeranno 20 euro 10 pellicole in parole povere vi costa un singolo scatto 2 euro e sono davvero tanti soprattutto per un utilizzo a lungo termine chiaramente non è una differenza sostanziale rispetto agli altri modelli della stessa azienda infatti anche con InstaSquare abbiamo prezzi particolarmente elevati però in questo modo si limita un po' l'esperienza e si limita l'accessibilità da parte degli utenti che vorrebbero effettuare scatti in assoluta libertà senza doversi preoccupare dal costo quando però dall'altro lato della medaglia se penso che con 10 pellicole io spendo 20 euro un po' mi limiterei l'esperienza nel momento in cui dovessi effettivamente avere acquistato questo prodotto personalmente mi è piaciuta la consiglierei ai nostalgici delle vecchie instant camera di una volta i quali non hanno troppi problemi nello spendere anche nelle ricariche e nelle pellicole perché come vi ho detto potrebbe essere il tratto distintivo o comunque il bivi fondamentale per l'utente che si vorrà avvicinare a questa tipologia di prodotto e l'utente che eviterà di acquistarle se il nostro video vi è piaciuto vi invito a mettere un mi piace qui sotto naturalmente iscrivetevi al nostro canale per essere sempre aggiornati su tutti i futuri video